Il treno alta velocità traccia rossa 97.50 di Trenitalia, proveniente da Venezia Santa Lucia e diretto a Torino-Porta Nuova, delle ore 18.04 e in arrivo al binario 3. Attenzione, avrò una nazione della linea gialla, ferma a Sperona-Porta Nuova, testiera del Garda, Brescia, Milano-Porta Garibaldi, Proffiera Milano, Turino-Porta Susa, carrozze dall'1 alla 3 in coda al treno, dalla 4 alla 5 centro treno, dalla 6 alla 8 test treno. Attenzione, treno in pranzo, avrò una nazione della linea gialla. Il treno è uno siti 310, di Trenitalia, proveniente da Venezia Santa Lucia e diretto a Torino-Porta Nuova, delle ore 16.04 e in arrivo al binario 3. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla, ferma a Sperona-Porta Nuova, testiera del Garda, Brescia, Milano-Centrale, Combo-San Giovanni, Chiasso, Tugano, Bellinzona, Artigoldau, Zoo. Carrozze dalla 11 alla 8 in coda al treno, dalla 7 alla 5 centro treno, dalla 4 alla 1 test treno su questo treno. È disponibile il servizio di ristorazione su questo treno. È possibile trasportare biciclette. Il treno regionale 16.08.2 di Trenitalia, delle ore 15.51, proveniente da Schio, è in arrivo al binario 1. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione, treno in arrivo al binario 2, allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 16.40 di Trenitalia, proveniente da Venezia-Santa Lucina, è diretto a Milano-Centrale, nelle ore 15.34, è in arrivo al binario 3. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Treno in arrivo al binario 2, allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 16.00 di Trenitalia, proveniente da Venezia-Santa Lucina, è in arrivo al binario 2. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno alta velocità a braccia rossa, 97.31, di Trenitalia, proveniente da Milano-Centrale, è diretto a Venezia-Santa Lucina, delle ore 15.27, è in arrivo al binario 2. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Padova, Venezia-Santa. Il treno alta velocità a braccia rossa, è in arrivo al binario 3, allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 17.00 di Trenitalia, delle ore 15.52, proveniente da Venezia-Santa Lucina, è in arrivo al binario 5. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 17.00 di Trenitalia, proveniente da Verona-Porta Nuova, è diretto a Venezia-Santa Lucina, delle ore 14.41, è in arrivo in ritardo al binario 2. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale 16.180 di Trenitalia, delle ore 14.46, proveniente da Treviso-Centrale, è in arrivo al binario 3.00 per lì. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Il treno di Trenitalia, di Trenitalia, proveniente da Venezia-Santa Lucina, è diretto a Milano-Centrale, delle ore 14.44, è in arrivo al binario 3.00. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Ferma per una Torta Nuova, Desenzano-Brescia. Carroze dalla 7 alla 6 in coda al treno, dalla 5 alla Trecentro-Creno, dalla 2 alla 1 testo-Treno. Il treno alta velocità a freccia rossa, 97.27, di Trenitalia, proveniente da Milano-Centrale, è diretto a Venezia-Santa Lucina, delle ore 14.27, è in arrivo al binario 2. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Ferma per una Torta Nuova, Venezia-Nestre. Carroze dalla 1 alla 3, sta al treno, dalla 4 alla 5, centro-Creno, dalla 3.9, è in arrivo al binario 3.00. Il treno alta velocità a freccia rossa, 97.36, di Trenitalia, proveniente da Venezia-Santa Lucina, è diretto a Milano-Centrale, delle ore 14.34, è in arrivo al binario 3.00. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla, firma per una Torta Nuova, Venezia-Santa Lucina, che rossa dalla 8 alla 3, sta al treno, dalla 4 alla 5, centro-Creno, dalla 6 all'Auto-Santa Lucina. Grazie. 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 Trento, Bolzano, Bressanone, Fortezza, Brennero, Imstrucaut, Banoch, Imbach, Berg, Kutstein, Rosenheim, Monaco Est. Carrozza dalla 263 alla 259 in testa al treno, dalla 258 alla 257 centro treno, dalla 256 alla 254 coda treno. Il treno Eurocity 311 di Trenitalia, proveniente da Torigo, è diretto a Venezia Santa Lucia, delle ore 13.57, è in arrivo in ritardo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Padova, Venezia Mestre. Carrozza dalla 11 alla 8 in testa al treno, dalla 7 alla 5 centro treno, dalla 4 alla 1 coda treno su questo treno, è disponibile il servizio di ristorazione su questo treno, è possibile trasportare biciclette. Attenzione! Avvisiamo che dal 3 aprile al 30 giugno 2023, per lavori di potenziamento infrastrutturale nella stazione di Montebello, tutti i treni regionali della tratta Venezia Santa Lucia, per una porta nuova, subiranno variazioni con la cancellazione della fermata di Montebello. Alcuni treni regionali effettueranno fermata straordinaria all'Onigo. Sarà predisposto un servizio bus a spola tra Montebello e l'Onigo. Maggiori informazioni sul sito di RFI, sui canali digitali di Trenitalia, o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie. Il treno regionale 16181, dell'ore 14.14, per treniso centrale, è in partenza di nato privo nativo, ferma in tutte le stazioni. Attenzione! Avrottarassi dalla linea gialla. Il treno regionale 17266, di Trenitalia, proveniente da Venezia Santa Lucia, è diretto a Verona Porta Nuova, delle ore 14.16, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni eccetto Montebello. Attenzione! Fermata di Montebello, cancellata, causa l'autore. Servizio di muta, amico a Montibello, viceversa. Attenzione! Attenzione! Il treno regionale 17311, di Trenitalia, delle ore 13.55, proveniente da Torino, e diretto a Venezia Santa Lucia, arriverà con ritardo previsto 7 minuti. Attenzione! Il treno regionale 17349, di Trenitalia, delle ore 16.59, di Trenitalia, dei 14.50, di Trenitalia. con l'anno spira di casi variazioni per un'ottima domanda che corrisponde al settore pernoviato le informazioni disponibili sui canali delle imprese pernoviare assistente per ieri e migliori attenzione 3 climatico a binario 1 all'ossanarsi dalla linea gialla il tre originale 3 climatico a binario 3 attenzione all'ossanarsi dalla linea gialla 3 climatico a binario 3 climatico a binario 3 il tre originale 35 climatico a binario 3 proveniente da ceneva e diretti a Venezia Santa Lucia delle ore 11.57 e in arrivo ordinario 2 attenzione all'ossanarsi dalla linea gialla fermata a Badova Venezia Mestre che rompe dalla 1 alla 2 in coda il treno dalla 3 alla 5 centro treno dalla 6 alla 7 mezzo treno attenzione si rappresenta che gli è stato aprire le porte esterne dei treni e salire a scendere quando non sono completamente fermi il treo regionale veloce 3488 di Trenitalia proveniente da Venezia Santa Lucia e diretto a Verona Porta Nuova delle ore 11.58 è in arrivo ordinario 3 attenzione allontanarsi dalla linea gialla fermata a San Pivaggio per una porta pesco attenzione invitiamo a non sostare lungo i percorsi dati dedicati al passaggio delle persone con disabilità visita il treo regionale 16.075 delle ore 11.09 è in partenza dal binario 2 giardino ferma in tutte le stazioni attenzione allontanarsi dalla linea gialla attenzione treno in transito al binario 3 allontanarsi dalla linea gialla il treno regionale 16.1 7.1 delle ore 11.14 per Treviso Centrale è in partenza dal binario primo giardino ferma in tutte le stazioni attenzione allontanarsi dalla linea gialla il treno alza velocità la traccia rossa 97.15 di Trevisabia proveniente da Torino Porta Nuova è diretto a Venezia Santa Lucia delle ore 10.57 è in partenza ordinario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a Spallola Venezia l'estere che rossa dall'8 alla tricuda al treno dalla 4 alla 5 centro treno dalla 6 alla 8 testo treno annuncio ritardo il treno regionale veloce 35 31 di Trenitalia delle ore 12.01 proveniente da Veruna Porta Nuova che diretti a Venezia Santa Lucia arriverà con un ritardo previsto 10 minuti Il treno Italo alta velocità 89 67 proveniente da Milano Centrale e diretto a Venezia Santa Lucia delle ore 11.17 è in arrivo ordinario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a Spallola Venezia l'estere carrozze dalla 7 alla 6 in fuoco al treno dalla 5 alla 3 centro treno dalla 2 alla 1 testo treno il treno alta velocità breccia rossa 97 24 in Trenitalia proveniente da Venezia Santa Lucia in diretto al piano centrale segnore 10.34 è in arrivo ordinario 3 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma per una cosa nuova di Mezzano Brescia carrozze carrozze dalla 1 alla 3 in coda al treno dalla 4 alla 5 centro treno dalla 6 alla 8 testo treno attenzione 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 viaggiatori che il treno in partenza dal binario 4 non fa servizio viaggiatori attenzione allontanarsi dalla linea grande il treno regionale la voce 34 95 di Granitaria proveniente da Berluna Porta Nuova e diretto a Venezia Santa Lucia delle ore 11.03 è in arrivo ordinario 1 invece di ordinario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a calma Venezia Mestre il treno regionale 17 9 5 delle ore 11.08 per Venezia Santa Lucia è in partenza dal binario 5 ferma in tutte le stazioni attenzione allontanarsi dalla linea gialla attenzione 3 in partenza 3 allontanarsi dalla linea gialla il treno alla velocità Santa Lucia 93 40 in Italia le ore 11.34 per Venezia centrale è in partenza dal binario 3 ferma a Vesca che non è la notte all'arrivo dal treno dalla quattro alla quattro del treno dalla stessa off del treno attenzione treno in transito al binario 2 allontanarsi dalla linea gialla Grazie.